ascolta parla mi sta chiedendo sotto due siete di due nei campi sono loro hanno c'è un bino sciso rambino ucciso sono davvolta mente delle fasce proprio c'è chi non lo trova c'è nel senso vedete che loro hanno fatto pezzi di staccionata però è che l'ho sotto c'è quello spazietto di controllo o chi è che ha spicciato armato vicino a me io 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 vivi vivi io sto arrivando con gab si mi provo a sparare voi gabbo stanno due sopra ragazzi due sopra li vedo questo qua che si chiama nrg di gabbo e io 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 mi pusho un tizio tengo vita lampiangente ma l'ho ucciso bravo daniel ciao gabbo mi stavo curando chi è che il martello che è il martello che ci fai qua io 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 ciappu devi andare devi andare sotto quella torre iniziare a spaccare tutti i fumogini verso la torre così non mi vedono è morto il fulghilli l'ho ucciso io non è viva ancora non l'ho letto e basta letto e basta raga copri retta io quando su riesce ad entrare nel perimetro inizio a tirargli tutte e sette le granate che ho la gai sono dentro ce l'avete colpi m4 caricatore non ce l'ho qui c'è qui sotto raga mirate le torrette c'è lo so problema di me quale avete presenti l'ho visto faccio finta di rompere mirate 91 ucciso fulghilli l'ho ucciso raga dovete mirare me però vai 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 adesso se ne va mi manderò delle foto io e k 12 siamo andati a difendere la base non avrai darlo un po spaccato attento c'è c'è un poster blocco spacca 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 cosa cazzo ho visto spacca cosa cazzo c'è andato cosa cazzo ho visto sono ancora vivo giuro esatto ma come verona questa interpreta la macchina banca in attivate Grazie per la visione!